Cerimonia di premiazione nell'aula consigliare di Palazzo Lascaris del concorso per le scuole bandito dalla consulta delle elette sul tema dell'introduzione del suffragio femminile in Italia. Hanno partecipato 69 video di 32 scuole superiori del Piemonte, coinvolgendo complessivamente 510 studenti. I premi sono assegnati alle scuole e sono destinati all'acquisto di materiale ed attrezzature didattiche. La cerimonia è stata aperta dall'orchestra e coro dei Pecchegni Asuellas.